Buongiorno, siamo con la dottoressa Laura Cominato, biologa nutrizionista alla Medica Porto Viro. Oggi siamo qui con Laura Cominato per parlare di questa collaborazione che ha con Adriatic ANG nel programma Wellbeing, giusto? Esatto, buongiorno a tutti. Per migliorare il benessere fisico ed emotivo dei dipendenti di Adriatic dentro e fuori gli ambienti di lavoro. Quindi voi guardate a cosa mangiano i dipendenti, anzi insegnate i dipendenti a mangiare. Esatto, è più un progetto di divulgazione a livello anche di prevenzione in realtà. Io sono uno dei professionisti che lavora con Medica Porto Viro che offre appunto servizi per Adriatic ANG e avevano bisogno di un professionista in campo nutrizionale e quindi con loro stiamo costruendo dei contenuti in realtà indirizzati i propri dipendenti. Non tanto su quello solo che mangiano ma proprio lo stile di vita a 360 gradi, quindi che attività fanno, anche lavorativa, non solo sportiva perché alle volte si pensa a quello, i propri ritmi quotidiani e quindi suggerimenti, trucchetti anche in ambito appunto nutrizionale per migliorare quotidianamente il proprio benessere, il proprio stile di vita, la propria situazione personale. Quindi è un programma diciamo in cui voi ascoltate i dipendenti, loro vi raccontano un po' la loro vita dal punto di vista nutrizionale ma anche del movimento, io che di sport faccio su e giù dalla sedia della scrivania insomma e poi su quello consigliate come comportarsi. Certo, è un'attività dell'azienda che si è centrata proprio su queste richieste che sono sorte appunto dalla necessità insomma emerse dal confronto con i dipendenti dove il tema naturalmente dello stile di vita è un tema sempre molto sentito. In questo caso il professionista ad hoc ricade nella figura del nutrizionista che in realtà deve essere in grado di dare dei consigli che però non siano troppo generalistici quindi anche centrarli su in questo caso dipendenti e su quello che fanno e poi anche che guardi un po' le esigenze. Quindi da questo anche la necessità e anche la progettualità di avere anche degli sportelli diretti con gli stessi dipendenti che possano accedere, interagire, esatto e chiedere direttamente. Quindi fra i dipendenti di Adriatica e LNG ma anche di tante altre aziende c'è quella di mangiare fuori casa la pausa pranzo. Quali sono i consigli che date in questo caso? Allora dal punto di vista della costruzione del pasto deve essere chiaro che spesso si dice mi raccomando la colazione per esempio è un momento importante della costruzione della giornata così come i cinque pasti banalmente colazione pranzo cena e magari degli spuntini che inframezzano quindi molto spesso nell'attività lavorativa si ricade nella pausa pranzo fuori casa quindi il dover riuscire a costruire un pasto che sia soddisfacente, nutriente e che insomma sia anche veloce alle volte, no? Sì, come a pasto. Esatto, però l'importante è rispettare l'aspetto nutrizionale quindi dal mio punto di vista il consiglio potrebbe essere quello di comprendere sempre i carboidrati anche se spesso vengono demonizzati perché si dice nelle diete diminuiamo i carboidrati però siamo a metà della giornata quindi poi abbiamo il tempo per smaltirli esatto e dobbiamo arrivare a sera quindi in una pausa pranzo in questo caso sicuramente il carboidrato deve essere contemplato ecco. Poi ci sono chi fa i turni, mattina, pomeriggio, insomma che si trova tante volte costretto a mangiare o presto presto o tardi tardi noi per esempio finiamo di lavorare tardi tardi la notte e vai a mangiare alle 22, alle 23, a mezzanotte ecco, in questi casi Cosa si fa? E che si fa? E che si fa? Uno si adatta insomma Sì ecco, questo è sbagliato, prendo spunto dalla sua frase si adatta e in realtà non dovremmo adattarci a quella che è il ritmo della nostra vita lavorativa o delle esigenze diciamo quotidiane ma dovremmo cercare di capire che il nostro fisico si ha una forma di adattamento ma è da diversi milioni di anni che è adattato in un certo modo ovvero seguire i ritmi circadiani quindi diciamo che il nostro metabolismo reagisce bene nelle ore di urne quindi mangiare quando c'è la luce è più conveniente per noi che mangiare quando c'è buio perché smaltiamo meno, siamo più lenti, in teoria dovremo dormire quindi quello che mangiamo dopo le ore di urne tendiamo ad accumularlo Questo non lo raccontiamo alla redazione, non gli facciamo ascoltare l'intervista noi ci sentiamo fra poco parlavamo con la dottoressa Laura Cominato che è la biologa nutrizionista a Medica Porto Viro e ha una collaborazione con Adriatica LNG per quanto riguarda il progetto Wellbeing sul benessere fisico dei dipendenti parlavamo di alimentazione mi vengono in mente i dipendenti di Adriatica che fanno i giorni notturni o stanno in piattaforma e allora cosa le consiglia? perché uno che lavora la notte anche lui ha gli orari un po' perino sfasati Certo, assolutamente infatti il trucchetto è quello di riuscire ad avere tutti i giorni gli stessi orari del consumo dei pasti più ci si adatta all'orario più il nostro metabolismo riesce a equilibrarsi anche su un aspetto chimico, biochimico, riproduzione ormonale più noi abbiamo giornate completamente diverse le une dalle altre più facciamo fatica a compensare e da questo punto di vista anche chi ha un'attività di lavoro notturno deve prevedere di fare una buona colazione di fare i pasti durante la giornata ed eventualmente di valutare comunque una buona cena e un pasto diciamo di ristoro anche durante il turno ma che comprenda naturalmente insomma una leggerezza ecco nella composizione e sia visto naturalmente come un momento di transito e naturalmente puoi recuperare tutti questi giusti ritmi il giorno dopo e i giorni precedenti La vera curiosità è uno finisce il turno di notte arriva a casa che è mattina, alba, ha una fame da lupo perché ha lavorato tutta la notte deve fare colazione, deve fare una cena posticipata, deve fare un pranzo anticipato cosa deve mangiare? Allora sicuramente la colazione è moderata, non troppo perché quando carichiamo troppo tendiamo anche ad avere meno sonno quindi di solito chi fa il turno di notte poi recupera un attimo anche diciamo il riposo quindi sicuramente la colazione è il fulcro centrale di tutte le nostre giornate chi fa turni normali mattutino o pomeridiano, chi fa il turno di notte sa che il momento principale è la colazione, non deve essere diciamo dimenticato ecco naturalmente il carico di zuccheri deve essere naturalmente controllato perché dopo c'è il problema legato alla glicemia e il problema anche dell'alterazione ad esempio che poi ci porta nel tempo ad avere le classiche patologie tipo il diabete E' importante mantenere degli orari fissi per i pasti anche quando ci sono giornate lavorative che ti portano a stare fuori? Assolutamente sì, nel senso che questa routine non è da considerarsi come diciamo così monotonia della scelta alimentare, questo non vuol dire che dobbiamo mangiare sempre le stesse cose ma utilizzare sempre lo stesso orario perché siamo degli animali abitudinari un po' come il gatto quando ci sveglia la mattina perché tutte le mattine ci alziamo alle 7 in realtà lui lo fa anche il sabato e la domenica quando magari siamo in perio e in vacanza Lui non sa Lui non sa Lui non sa Però la pancia brontola Quindi anche questo è un modo per abituarci ad ascoltare il nostro corpo i segnali che esso ci dà anche sul segnale fame o sazietà Se noi siamo completamente sballati quindi siamo dietro alle nostre orari di lavoro e non siamo noi consapevoli dei bisogni del nostro fisico rischiamo di andare insomma a parare sempre i colpi sostanzialmente quindi aumenta tantissimo lo stress Anche questi giorni fa un caldo un caldo maledetto Sto per dire un caldo cane C'era il gatto Esatto Fa un caldo maledetto Quando fa caldo di solito cala anche la fame, l'appetito, la voglia di mangiare Ci sono delle attenzioni particolari da avere in questi casi ai ritmi del mangiare, alla tipologia dei pasti insomma sia che si sia al lavoro sia che si sia in vacanza Certo questo è un consiglio generale naturalmente Allora sicuramente l'idratazione è importante deve essere fatta a mio parere lontano dal momento pasto perché se no durante il pasto andiamo a diluire troppi nutrienti invece fare piccoli sorsi durante la giornata tenersi la bottiglia sulla scrivania o sul luogo del lavoro sempre a portata di mano e naturalmente consumata durante tutta la giornata e non magari quei troppo pieni che si fanno un litro, un litro e mezzo perché ho tanta sete, questo non va bene perché andiamo anche a squilibrarci ancora di più dal punto di vista elettrolitico e quindi rischiamo proprio la disidratazione pur bevendo quindi da questo punto di vista in queste condizioni di molto caldo è importante cercare di bere almeno due litri di acqua al giorno di farlo sorseggiandola per tutta la giornata e magari di non farlo esattamente nel momento ricordarmi al momento del pasto un'ultima domanda al volo, risposta rapida come sta andando questo rapporto con i dipendenzi di Adriatica? avvengono i dipendenzi di Adriatica a chiedere i consigli dovete inseguirli, chiedono i consigli poi non li seguono ok, allora in realtà il progetto diretto inizierà da settembre quindi quello che è diciamo non sarà un ambulatorio ma sarà proprio un luogo di consulenza chiedo una domanda spot, cerco di capire io come professionista come inquadrare quella domanda e rispondo dando una personalizzazione naturalmente al dipendente che frequenta questo luogo non è un ambulatorio perché l'ambulatorio è un altro luogo con altre specifiche naturalmente nel frattempo però stiamo costruendo dei contenuti dal punto di vista di naturalmente divulgazione e mi sembra che la parte anche dirigenziale sia naturalmente anche contenta insomma io ringrazio la dottoressa Laura Cominato Biorga, nutrizionista a Medica Porto Vio e collaboratrice di Adriatica LNG in questo piano rivolto al benessere dei dipendenti grazie dottoressa grazie a tutti grazie a tutti